Il coltello è la nuova incredibile arma che è stata aggiunta a quelle che possono capitare durante il drop di una partita. Eccole qua, sono sempre potentissime e incredibili. Per tutti il Krabber è sempre stata l'arma perfetta e senza ombra di dubbio con i suoi 140 è anche quella che fa più danno. Sì o no? Certo che il Krabber dal punto suo, beh, la cadenza di fuoco di certo non aiuta. Il coltello da lancio invece è molto, molto più veloce ed è perfetto sulla corta distanza. La cosa però molto interessante è che, beh, il coltello, vedete, due colpi, vi butta giù un avversario pieno zeppo tra scudo e vita. Quindi 200 spaccati spaccati. Il Krabber in headshot tira 224. E il coltello da lancio? 240. Ci sarà da divertirsi.